Buongiorno a tutti principianti, parlavo proprio in questo momento con Pasquale sul fatto di questi attacchi di fama improvvisi che si possono avere durante un periodo di ipocalorica oppure sulla gestione appunto degli sgarri. Lui sa bene che ha uno o due sgarri la settimana a seconda della periodizzazione dell'alimentazione e dell'allenamento, in che fase diciamo dell'anno siamo, e stiamo parlando del fatto se fosse consono o non consono farli per forza questi sgarri. Quindi come fare a gestire quei momenti durante la giornata oppure quei momenti durante la preparazione dove abbiamo quei buchi allo stomaco che ci fanno venire voglia di mangiare qualunque cosa, specialmente di glucidico, riusciamo a trovare davanti al nostro cammino. Io spesso per esempio ho il problema di avere durante i momenti un po' più fermi della giornata, magari la sera, quando finalmente prima di andare a letto riesco a ritagliare di quei 10-15 minuti da stare sul divano dove magari guardo un po' di tv, cazzeggio un po' su internet, ci sta anche e immancabilmente arriva quel senso di fame, quel senso di vuoto allo stomaco. Ecco, sicuramente questo è una mancanza di adrenalina, perché la mancanza di adrenalina ci fa avere più fame. È spesso detto infatti che durante anche le fasi più ipocaloriche del mondo, durante l'allenamento difficilmente abbiamo dei sensi veri di fame. Possiamo avere delle sensazioni di mancanza di zuccheri, ma sensi di fame non ne arrivano. Quindi come fare a gestire tutto ciò? Intanto, ragazzi, è vero, la migliore alleata di tutte è la nostra amica acqua. Cercare di riuscire a bere il più possibile due o tre bicchieri in modo molto veloce di acqua, magari fredda, ci aiuta a tappare un po' quel senso di fame, ci fa venire un po' di sana nausea che ci toglie la voglia di qualcosa di buono. È anche vero appunto che gli sgarri, se ci sono, devono comunque essere fatti questi cheat meal. E parlavo appunto con Pasquale adesso sul fatto di farli per forza, anche laddove non ci fossero le reali voglie durante la settimana di sgarrare, di andare contro quello che è il nostro regime di dieta. Come fare? A mio avviso, personalmente, è sempre meglio non arrivare nel periodo dove non ne ho fatti prima e ora ne voglio fare dieci. Quindi meglio, anche se uno non ha troppa voglia, cercare sempre di godere qualcosa di un pianerottolo per cercare poi di ripartire al meglio. laddove però uno sia molto inquadrato, abbia un obiettivo ben preciso, una strada ben delineata da percorrere, diciamo, la cosa più importante è capire qual è il momento della preparazione che possa essere per una gara, che possa essere per uno shooting, che possa essere semplicemente per vedersi meglio allo specchio e con se stessi, capire qual è il momento durante questa preparazione dove già sapremo, per esperienza nostra, perché l'abbiamo già fatto, perché il coach ci dice che avverrà così automaticamente, quindi tenersi qualche bonus di sgarro per cercare di ampliare un po' il nostro senso di tranquillità e non arrivare a una condizione dove veramente arriviamo, sfondiamo la credenza e ci mangiamo anche le maniglie. Quindi questa è la cosa più importante, quindi cercare comunque di mangiare molta verdura, magari a inizio pasto, ci aiuterà a saziare maggiormente lo stomaco verso il prossimo pasto, specialmente glucidico, bere molta acqua nei momenti di giornate dove l'adrenalina scende, arriva un po' la stanchezza, ci si rilassa e quindi la prima cosa che pensiamo molte volte è mangiare, oltre ad altre cose, e sicuramente nei momenti della preparazione, chiamiamola così, durante l'anno, durante un mesociclo, dove sappiamo che abbiamo poi una scadenza importante, che questo ci repercutterà in tanti allenamenti, tanti allenamenti con pochi carboidrati, con poche calorie, tenere qualche piano rotto, tenere qualche bonus, così da poter percorrere molto meglio la strada e arrivare all'obiettivo con un nuovo target sempre più alto, senza l'ansia di un cappio che ti stringe la gola e ti fa arrivare in modo molto stressato.